Ciao a Betes.it, momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti, il suo tredicesimo omometraggio, perché ha anche partecipato da giovanissima a un film collettivo. Devo fare una premessa, perché il film non mi è piaciuto quasi per niente, però io amo molto Daniele Lucchetti e non mi metterò a fare tutto il pippone su che cos'è il cinema di Lucchetti, che è un cinema molto eclettico e che è un cinema molto intelligente e sofisticato, nel senso che poi è anche uno che ha sperimentato con i generi, è anche uno che è andato di qua e di là, che ha fatto film in costume, che ha fatto film particolari, che ha fatto film bellissimi come il portaborse, anche molto incisivi dal punto di vista politico. Però vogliamo cominciare con, per esempio, lui, che è uno che parla velocissimo così, peraltro Anni Felici, bellissimo, fa vedere Kim Rossi Stewart, che fa il papà praticamente di Lucchetti, che era un artista, che parla come Lucchetti, quindi vedere Kim Rossi Stewart che parla tutto veloce come Daniele Lucchetti, che parla come lui, è uno di me, mi ha fatto molto divertente, anche quasi un po' ossessivo compulsivo, infatti è un po' matto Kim Rossi Stewart nel film. Questo è uno degli ultimi, però io, Lucchetti, lo adoro anche nei film di Anni Moretti, che amo di più, i primi film di Anni Moretti, come attore, è l'uomo che non smette mai di ridere nella messa è finita e Don Giulio lo accompagna fuori dal catechismo, mentre quello continua a ridere e poi gli dice buona giornata però, perché ha fatto una battuta di cui è molto fiero ed è uno delle cose più divertenti come ha visto in vita mia, perché Moretti un tempo era un grandissimo regista dello humor e Lucchetti era quello che rideva, rideva all'improvviso, non smetteva più e Moretti salsava e lo portava via e quello faceva scusi, buona giornata, sempre con la voce veloce di Daniele Lucchetti, l'edizione veloce di Daniele Lucchetti, che è uno che pensa, è come Mr. Wolf di Pulp Fiction, io parlo svelto perché penso svelto, ok, parlo veloce perché penso veloce. Detto ciò mi piace da morire pure in bianca quando si rimorchia quella bella signora a Villa Borghese con i cani, essendo un modello che ovviamente Michele a Picella non riuscirà mai a raggiungere perché allora si intrecciano i cani, è uno di quei single che andava a Villa Borghese per rimorchiare con i cani, ma che meraviglia, e infatti dice ma perché non li facciamo conoscere meglio, magari poi si sposano, faccia questa battuta, si sposano, poi si sposano i cani, sei proprio un rimorchione, ma che meraviglia, e poi è quello che passa dei diagrammi incomprensibili a Michele, deputato del PC, in Palombella Russa è sempre Daniele Lucchetti, che meraviglia, e lì poi aveva già esordito con Domani accadrà, dove c'è Moretti che fa un cameo, così se li scambiano, ed è Matteo il carbonaio che ha un linguaggio tutto suo, è dolcissimo, è bellissimo il personaggio di Daniele Moretti in Domani accadrà, di Daniele Lucchetti. Ok, tutta sta insopportabile intro per dire che non mi è piaciuto per niente il suo ultimo film, mi dispiace, mi è capitato già con lui, con Dillo con parole mie, che però aveva un momento bellissimo di musical tra Stefania Montorsi e Gianpaolo Morelli in Pullman, verso la fine del film, dove si mettevano tutti a ballare, a cantare, e non mi era piaciuto per niente fino a quel momento, quella era una commedia sentimentale, di anche un po' straziante, in chiave leggera, comunque di, ah in Grecia, andiamo in Grecia, ti devo riprendere, ti devo riconquistare, i giovani attori belli, Gianpaolo Morelli era strafico, che anno era? Era il 2003. Ovviamente il suo film forse più noto è Il Portaborse, dove oggi tutti fanno Ghostwriter, tutti parlano di Ghostwriter, tutti negli ultimi anni hanno fatto film sui Ghostwriter, The Wife Ghostwriter, Big Eyes, Ghostwriter, tutti Ghostwriter, e Il Negro invece, il concetto di Negro, il bellissimo Notti Magiche di Virzi, con la nostra parola, Negro, in chiave cinematografica, Il Portaborse c'è lo sfogo di Silvio Orlando a Renato Carpentieri all'inizio del film, che fu proprio uno shock, perché io non avevo mai sentito parlare del Ghostwriter o del Negro, e Silvio Orlando che gli dice, ma io ho scritto dei romanzi per lei, io ho scritto delle cose, ho scritto questo, ho scritto quell'altro, è stupendo. Film stupendo, c'era Renato Carpentieri, c'era Nanni Moretti che faceva Botero, il ministro orrido delle partecipazioni statali, c'era un grande cinema, c'era un successo pazzesco a Cannes, a Cannes ha avuto successo pure con La Nostra Vita, facendo vincere Adelio Germano, ex equo con Bardem, miglior attore, e vabbè, poi è mio fratello e figlio unico, è Ale, e oh ragazzi, Daniele Ruchetti. Allora, Momenti di trascurabile felicità, perché non mi è piaciuto per niente? Perché è un film che prende un po' le osservazioni argute del Francesco Piccolo, di Momenti di Trascurabile Felicità, libro, Momenti di Trascurabile Infelicità, sequel, libro, perché ebbe tanto successo, Momenti di Trascurabile Felicità, libro, e quelle sono raccolte di osservazioni divertenti, carine, quotidiane, da leggere d'estate, ma anche d'inverno, ma anche d'autunno, perché no pure in primavera. Molto carine osservazioni sulla nostra vita quotidiana, piccole idiosincrasie che io capisco molto bene, e quindi, cioè, molto carine, molto carine, molto leggere. Che cosa fanno Luchetti e Piccolo? Cercano di farlo diventare un film, con una storia, e con, è qui che io un po' mi scollego, se lo fai in questo modo, con la commedia fantastica della morte e quindi della conoscenza con impiegati dell'aldilà, poi lì, voilà, si apre, sei cattolico, sei buddista, sei musulmano, sei fantasy, invece, crei te il tuo mondo. Qui siamo in una dimensione di crei tu il tuo mondo, perché? Perché non abbiamo, diciamo, dei punti di riferimento della religione cattolica, per esempio, come invece ha fatto Lars Pontrier con la casa di Jack, che è veramente molto interessante come lui proprio aderisca, no? All'idea di Dante Alighieri, che poi era vicino alla religione cattolica. Allora, come idea del dopo, no? Qui c'è un dopo che capita a Piff, il quale è ossessionato dai semafori, è un uomo qualunque, un po' antipaticuccio, che è il problema grosso del film, in voiceover costante come fa Piff, che è una cosa che, una mia disincrasia, la voce di Pierfrancesco Di Liberto, che io non sopporto, la trovo lamentosa, querula, estremamente fastidiosa, sarà che l'ho sentita in una nota campagna pubblicitaria per anni, accendevo la televisione, no! C'era Piff che, e mi gna gna gna, raccontava sempre queste cose, questa voce di Piff mi disturba profondamente, mi irrita profondamente, quindi non sono forse proprio lo spettatore più adatto. Lo trovo invece un uomo molto... non lo trovo un bravo attore, perché in questo film non è bravo come attore anche, lo trovo un possibile bravo autore, molto incensato per La mafia uccida anche d'estate, che è un film dove va tutto bene tranne lui. Cioè io lo vorrei come regista, senza recitare, perché non mi piace, e non mi piace per niente il voiceover, non mi piace per niente, trovo che sia su di me, quindi ha un effetto estremamente negativo. Questo signore muore, ha la possibilità con Renato Carpentieri, incontra Renato Carpentieri, che è questo buffo impiegato dell'aldilà, non capiamo niente, dove siamo, religione cattolica, boh, chi lo sa, è vestito un po' come Zack Snyder, come questi registi che si vogliono dare un tono, è vestito un po' con i gilet tutto d'oro, un po' come Zack Snyder sui set dei Cinecomic DC, per darsi un tono un po' retro, diciamo, questo modo di vestirsi, il gilet, e Renato Carpentieri gli dice, no, hai ancora un'ora e 32 minuti di tempo. Allora, questo è tutto un filone, il cielo può attendere, prima era, il cielo può attendere di Lubitsch, Scala al Paradiso di Paolo e Pressburger con David Niven, il più bello, moderno, che era il Paradiso può attendere di Warren Beatty e Buck Henry, scritto da LMA e Warren Beatty, wow, mamma mia, la tuta non è mai stata così sexy, la tuta grigia, che era un, diciamo, remake del primo grande soggetto su questo tipo di storia, no, cioè che noi moriamo ma arriva qualcuno che ci fa aspettare un impiegato della al di là, allora riconsideriamo la nostra vita, la rivediamo, la riviviamo, oppure ritorniamo sulla terra, e vabbè, è andata così. L'inafferrabile Signor Jordan, 1941, appunto è l'inizio più forte da cui appunto poi Warren Beatty avrebbe fatto nel 78 con Buck Henry quel bellissimo aggiornamento, che poi è stato rifatto, ancora un'altra volta, dai fratelli Weiss. Detto ciò, Piff torna sulla terra, nei panni di se stesso, e il film è, quindi cerca di unire le osservazioni di piccolo dei libri, che sono, perché quando c'è la fila dei taxi non è mai il primo quello che dobbiamo prendere, ma l'ultimo, perché come si rompe il vetro per prendere il martello frangipetro, se a sua volta c'è un vetro, e vabbè, sono piccole osservazioni, che però poi diventano, in lui non capisci proprio l'attinenza con la sua storia personale, perché lui torna, torna in questa Sicilia, torna in questa Palermo, e il problema è proprio il personaggio del protagonista, il personaggio di Paolo, interpretato da Piff, che è molto antipatico, molto banale, molto fastidioso, almeno a me mi ha dato un grande fastidio, c'è nel film una sorta di maschilismo paternalista, che mal si sposta soprattutto con il fatto che la compagna di vita di Paolo è interpretata da Toni, che era già stata stupenda in tutti i santi giorni di Paolo Virziad, è molto più brava di Piff a recitare, è molto più bello il personaggio, è molto più interessante lei, perché non avete fatto uno shift? perché non avete fatto un cambio? Lucchetti peraltro è molto vicino al femminile, infatti questo è un film non lucchettiano, per niente proprio, per niente, anche in Io sono tempesta quando Giallini faceva, abbiamo fatto un amore, che era una parodia di Berlusconi, qualora si possa fare una parodia di Berlusconi, abbiamo fatto un amore, questo galletto, questo maschio ridicolo galletto che comunque se non va in buca non dà un senso alla sua vita, viene profonda, e ste donne fantastiche, queste escort ovviamente con 5 lauree, con 6 lauree che Lucchetti poi va a indagare benissimo, prendendo una e portandola dentro il film, facendocela vedere ad un altro punto di vista, grande cinema, e Giallini che gli fa, abbiamo fatto l'amore perché lui deve fare l'amore con le ragazzine ovviamente, come tutti i maschi di merda italiani che abbiamo distrutto l'Italia, e queste che gli fanno sì sì sì, tanto, e poi ridono tra loro perché ovviamente se è addormentato, non lo sapete, questo è Lucchetti, Lucchetti è la settimana della spinge, è Margherita Bui, nel ruolo più bello della sua vita prima oltre allo spazio bianco della Comincini, dove è, capito, è Margherita Bui, cioè quel film io lo adoro, lo adoro la settimana della spinge, non li facevamo film così con una donna che fa l'amore, che ha esperienze, non ce ne stanno film così in Italia, tranne poi la bruttina stagionata di Anna Di Francisca, un grandissimo film con Carla Signoris, e allora io non ho capito perché devo aderire alla visione di questo metto che è veramente antipatico, Piff poi non lo riesce proprio a rendere ai miei occhi simpatico, va di qua, va di là, va dagli amici, si ricorda le sue donne, ti ricordi le tue donne, ti ricordi le tue donne, ma allora non sei tornato per un attimo riconsiderare la tua vita con la tua compagna, i figli che trascuravi, no, ricomincia a pensare alle sue donne, allora tutto questo poteva essere interessantissimo, potevate buttarla in cacciara, potevate distruggere il concetto del, anche in chiave, anche in relazione a quei grandi classici che abbiamo citato, perché c'è sempre poi o una redenzione, o un cambio, o un, ah ero uno stronzo allora, ah facevo così allora faccio colà, invece qui è, ah facevo così allora faccio colà, però poi nel mezzo non c'è assolutamente questo tipo di percorso, è appiccicato alla fine, questo non va bene, ma non capisco, non capisco anche un uomo che dice, non capisco anche un uomo che si angoscia perché qualcuno gli dice, soprattutto le donne ti penserò, ma non tutti i giorni, cioè trovo disturbato un uomo che si angoscia per questo, perché è folle essere pensati tutti i giorni da una persona, non va bene proprio, allora è tutto questo che, è tutta questa mia mancanza di aderenza, di piacere, di simpatia per un personaggio che poi non è mai messo in crisi, allora avrei voluto che, avrei voluto che andasse tutto male quei 92 minuti nuovi che gli danno di vita, no? Cioè tutto male, tutto male, perché? E quindi osservazioni, 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 poi c'è una storia che non c'è, una vita che non c'è, un rapporto che non c'è, con Tony che è molto più brava di lui, ma lui è il protagonista, no doveva essere lei la protagonista, via, questo era un film rivoluzionario, questo era un film rivoluzionario, molto molto interessante, ed è anche molto divertente il personaggio di Renato Carpentieri, perché io che sono un amante del fantasy, vado completamente fuori di testa quando c'è la cornice fantasy, e lì mi metto, allora come sono questi, ma quali sono le regole, esiste Dio, è il quale Dio, American Gods, Italian God, il nome della rosa, è il Dio così, è il Dio colà, che Dio è? E qui c'è Renato Carpentieri che è un po' invece, è un po' la burocrazia di Brasil, senza le mosche, senza la mosca che si schiaccia, senza i grandangoli, senza la distorsione, senza gli anorme, che c'ha paura di tutto, senza i dubbi, però è più l'idea di questa diciamo burocrazia, o burocrazia, tutta appunto anche col gilet, un po' anni 30, un po' anni 40 come vestito. E peccato perché Carpentieri come Tony non è protagonista, protagonista è Piff, con la sua voce querula e fastidiosa, con le sue espressioni anche un po' altere, lui ogni tanto ti guarda così, questa diffidenza, e mi dispiace, per me proprio no, 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 si cita Ritorno al Futuro, e c'è questa unione che non funziona per niente, delle piccole osservazioni quotidiane che lui continua a fare, no, ovviamente dovresti fa altro, e non è che Warren Beatty si metteva a guardare un attimo i lampioni, o vedeva i taxi, o vedeva il frangivetro quando tornava da Paradiso per attendere, sono film molto importanti questi, dove c'è proprio, è molto importante la motivazione del personaggio, e qui c'è una grandissima confusione secondo me, in sceneggiatura, però Lucchetti, anche che io adoro come regista, anche quando non mi piacciono i suoi film come in questo, caso, ci sono dei momenti, per esempio c'è un ricordo dell'inizio della sua relazione con lei, con il passaggio a livello, che è un altro film, è una rom-com, è una commedia sentimentale divertentissima, esattamente come in Dillo con parole mie, quel film che non mi piace per niente, con la Grecia, con quello che va in Grecia, no, no, vengo in Grecia, lei che va in Grecia, là c'era Lucchetti in cammeo, ma in foto, non mi piaceva per niente, tranne quel momento del musical bellissimo, dove erano splendidi, sembrava La La Land fatto 15 anni prima, stupendi, Morelli e Montorsi, che non c'entrava niente, perché era proprio, partiva musical così, Lucchetti è, qua c'è il momento del passaggio a livello, il ricordo di questo passaggio a livello tra lui e lei, che ho trovato adorabile, adorabile, era un altro film, era quello il film che dovevi fare, o forse era questo il film che non dovevi fare, momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti, il suo tredicesimo lungometraggio, questo signore ha vinto 4 David, è un grande regista che si riprenderà dal mio punto di vista, poi magari vuole andare fuori di testa, ciao Betteist! Grazie a tutti!